amate la madonna e fatela amare recitate sempre il santo rosario un appuntamento con la preghiera mariana prediletta da padre pio a san giovanni rotondo il sabato sera alle 21 da aprile a ottobre si svolge la fiaccolata mariana un suggestivo momento di raccoglimento per invocare la protezione e l'intercessione della mamma celeste per infogruppi 0882 41 75 00 nel nome del padre del figlio dello spirito santo amè fratelli e sorelle carissimi benvenuti a questo appuntamento quotidiano con il santo rosario alla scuola di san pio da pedelcina affidiamo alla beata vergine maria delle grazie e allo stesso san pio tutte le intenzioni per cui vogliamo pregare in comunione spirituale con tutti coloro che si uniscono a noi attraverso tele radio padre pio oppure internet in tutto il mondo preghiamo anzitutto per gli ammalati in particolare per quelli che ci sono stati affidati ultimamente gli anziani le persone sole le famiglie in difficoltà quelle che vivono dei gravi lutti le persone in cerchio di un lavoro i carcerati i peccatori tutti quelli che vivono lontano da dio e dalla chiesa i nostri benefattori e tutti coloro che si affidano alle nostre preghiere preghiamo per il santo padre francesco il papa emerito benedetto il nostro arcivescovo padre franco tutti i vescovi per tutta la chiesa preghiamo per la casa sorride della sofferenza opera di padre pio per tutto il personale sanitario amministrativo per tutti coloro che vi operano per i malati ricoverati e per i gruppi di preghiera sparsi in tutto il mondo per gli sposi che desiderano avere un figlio affinché per intercessione della madonna delle grazie e di san pio vedre saudite le loro accorate preghiere preghiamo ancora per le santificazioni dei sacerdoti e religiosi per le vocazioni per i missionari remissioni per conversione di tutti gli uomini e di tutti i popoli a dio per la pace e la giustizia nel mondo intero per i cristiani perseguitati o emarginati in tanti paesi del mondo preghiamo per tutti i coloro che sono in viaggio perché giungono sani e salvi alla loro destinazione preghiamo anche per gli agonizzanti e per i nostri cari diffunti e preghiamo finalmente per le nostre intenzioni e necessità particolari e per quelle di tutti coloro che visitano il nostro santuario o dio vieni a salvarmi signore vieni presto e mi aiuto gloria al padre al figlio e allo spirito santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli ame gesù perdone le nostre colpe preservaci da fuoco dell'inferno porta in cielo tutte le animi specialmente le più bisognose della tua misericordia gesù e maria vi amo salvate le anime o signore manda santi sacerdoti e fervente religiosa la tua santa chiesa santa maria delle grazie prega per noi san pio da pietrecina prega per noi meditiamo i misteri della gloria e nel primo mistero la resurrezione di gesù dal vangelo di matteo l'angelo disse alle donne so che cercate gesù crocifisso non è qui e risorto come aveva detto padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatto la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in dentazione ma liberaci dal male ame ave maria piene di grazie il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetti frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte ave maria piene di grazie il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetti frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte ave maria piene di grazie il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetti frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte ave maria piene di grazie il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetti frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte ave maria piene di grazie il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetti frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte ave maria piene di grazie il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetti frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte ave maria piene di grazie il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetti frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte ave maria piene di grazie il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetti frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte ave maria piene di grazie il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetti frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte ave maria piene di grazie il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetti frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amè gloria al padre al figlio e allo spirito santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli amè gesù perdona le nostre colpe preservaci dal fuoco dell'inferno porti in cielo tutte le anime specialmente più bisognosa della tua misericordia gesù e maria vi amo salvate le anime o signore manda santi sacerdoti e ferventi religiosa la tua santa chiesa santa maria delle grazie prega per noi san pio da pietricina rega per noi nel secondo mistero l'ascensione di gesù al cielo dal vangelo di marco il signore gesù dopo aver parlato loro fu assunti in cielo e si assise alla destra di dio padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra da oggi oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori e non ci indurre in dentazione ma liberaci dal male amen ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori santa maria madre di dio prega per noi peccatori ad esse nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori ad esse nell'ora della nostragone morto nel wara della nostra morto amore garie con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria maria madre di dio prega per noi peccatori ad esse nell'ora della nostra morte ameno ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne, è benedetta il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, è benedetta il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, è benedetta il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, è benedetta il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, è benedetta il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, è benedetta il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, è benedetta il frutto del Tuo Seno, Gesù. Gloria Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Gesù e Maria, vi amo. Salvate le anime. O Signore, manda a Santi i sacerdoti e fervente religiosa la Tua Santa Chiesa. Santa Maria delle Grazie, prega per noi. San Pio da Pietrecina, prega per noi. Nel terzo mistero, la discesa dello Spirito Santo sulla Vergine Santissima e sugli Apostoli nel Cenacolo. Dal Vangelo di Giovanni. Come il Padre ha mandato a me, così io mando voi. Detto ciò, soffiò su di loro e disse, Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati, sono loro rimessi. E a chi non rimetterete, resteranno non rimessi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno, sia fatto la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in dentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetti il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetti il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetti il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetti il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetti il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetti il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetti il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetti il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetti il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetti il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdone le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in geno tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Gesù e Maria, vi amo. Salvate le anime. O Signore, manda santi sacerdoti e fervente religiosa la Tua santa Chiesa. Santa Maria delle Grazie, prega per noi. San Pio da Pietrecina, prega per noi. Nel quarto mistero, l'assunzione di Maria Vergine al cielo in anima e corpo. Dal Vangelo di Luca. D'ora in poi, tutte le generazioni mi chiameranno Beata. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Nacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. e non si indurre in tentazione, ma ripereci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essere l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essere l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essere l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essere l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essere l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essere l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essere l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essere l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essere l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Gloria, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essere l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in giro tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Gesù e Maria, vi amo, salvate le anime. O Signore, manda, santi sacerdoti e ferventi religiostra la Tua santa Chiesa. Santa Maria delle Grazie, prega per noi. San Pio da Pietrecina, prega per noi. Nel quinto mistero, l'incornazione di Maria Vergine, regina del cielo e della terra, è la gloria degli angeli e dei santi. Esaltata dal Signore, ella sprende come regina e intercede come madre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatto la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in dendazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetti il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetti il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte, amici. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetti il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte, amici. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetti il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte, amici. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetti il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte, amici. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetti il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte, amici. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetti il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte, amici. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetti il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte, amici. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetti il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte, amici. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetti il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte, amici. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, amici. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Gesù e Maria, vi amo, salvate le anime, o Signore, manda santi sacerdoti per vendere rigiossa la Tua santa chiesa. Santa Maria delle Grazie, prega per noi, San Pio da Pietrecina, prega per noi, salve o Regina, Madre di Misericordia. Vida, dolcezza e speranza nostra salve, a te ricorriamo, Noè, sulle figlie di Eva, a te sospiriamo, gemente e piacenti questa mare di lacrime. Orso, dunque, avvocata nostra, rivolge a noi quegli occhi Tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo insidio Gesù, il frutto benedetto del Tuo seno. O clemento, o pia, o dolce Verge di Maria. Signore, pietà! Signore, pietà! Cristo, pietà! Cristo, pietà! Signore, pietà! Signore, pietà! Cristo, ascoltaci! Cristo, ascoltaci! Cristo, esaudiscici! Cristo, esaudiscici! Padre, cereste che sei Dio! Ambi, pietà di noi! Figlio, redendore del mondo, che sei Dio! Ambi, pietà di noi! Spirito Santo, che sei Dio! Ambi, pietà di noi! Santa Trinità, unico Dio! Ambi, pietà di noi! Santa Maria! Prega per noi! Santa Madre di Dio! Prega per noi! Santa Vergine delle Vergini! Prega per noi! Santa Sposa del Giusto Giuseppe! Prega per noi! Madre di Cristo! Prega per noi! Madre della Divina Grazia! Prega per noi! Madre della Chiesa! Prega per noi! Madre Purissima! Prega per noi! Madre Castissima! Prega per noi! Madre Sempre Vergine! Prega per noi! Madre Intemerata! Prega per noi! Madre Amabile! Prega per noi! Madre Ammirabile! Prega per noi! Madre Buon Consiglio! Prega per noi! Madre del Creatore! Prega per noi! Madre del Salvatore, prega per noi. Madre di misericordia, prega per noi. Vergine Prudentissima, prega per noi. Vergine Venerabile, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio della giustizia, sede della sapienza, causa della nostra letizia, dimora dello Spirito Santo, vaso degno di onore, modello di vera pietà, cosa mistica, d'ore di Davide, d'ore di Avodio, prega per noi, casa d'oro, prega per noi, arca dell'Aleanza, prega per noi, porta del cielo, prega per noi, stella del mattino, prega per noi, salute degli infermi, prega per noi, diffugio dei peccatori, prega per noi, consolatrice degli affritti, prega per noi, aiuto dei cristiani, prega per noi, regina degli angeli, prega per noi, regina dei patriarchi, prega per noi, regina dei profeti, prega per noi, regina degli apostoli, prega per noi, regina dei martiri, prega per noi, regina dei confessori della fede, prega per noi, regina delle vergini, prega per noi, regina di tutti i santi, prega per noi, regina concepita senza peccato, prega per noi, regina assunta in cielo, prega per noi, Reggina del Santo Rosario, reggina della famiglia, reggina della pace, reggina dell'ordine francescano, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, esaudisci, oh Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ambi il pietà di noi, prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. O Dio, il tuo unico Figlio, ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, congedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice e le necessità della Chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in dentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetti il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ami. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. L'eterno riposo dono loro, Signore, e sprendi ad essi la luce perpetua, riposte in pace. Ami. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina e custodisci, reggi e governami, che di cui abitato dà la pietà cereste. Ami. Preghiera a San Pio da Pietricina. Umile e amato Padre Pio, insegna anche a noi, ti preghiamo, l'umiltà del cuore per essere annoverati tra i piccoli del Vangelo, ai quali il Padre ha promesso di rivelare i misteri del suo regno. Ottienici uno sguardo di fede capace di riconoscere prontamente, nei poveri e nei sofferenti, il volto stesso di Gesù. Sostienici nell'or del combattimento e della prova, e se cadiamo, fai che sperimentiamo la gioia del sacramento e del perdono. Trasmettici la tenera devozione verso Maria, Madre di Gesù e nostra. Accompagnaci nel peregrinaggio terreno, verso la Patria Beata, dove speriamo di giungere anche noi, per contemplare in eterno la gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E prima della Santa Benedizione diamo la nostra buonasera alla Mamma Celeste, chiedendo anche la Sua Benedizione. Buonasera, Madonna mia, tutto il mondo a te si inchina, per quel frutto che portasti, tutto il mondo illuminasti. Illumina l'anima mia. Buonasera, Madonna mia, tu sei la Madre mia, Immacolata Concezione, dai a noi tutti la tua santa benedizione. Il Signore sia con voi e con il tuo Spirito e la benedizione di Dio Onnipotente. Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulle vostre famiglie, sulle vostre case e con voi rimanga sempre. Augurando a tutti una serena notte e un tranquillo riposo, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Grazie a Dio.